israel allora salve a tutti ragazzi eccoci su the witcher 3 continuiamo l'allenamento che stavamo facendo questo è ancora il prologo la seconda parte andiamo nel punto indicato quindi rilascia per quali sono i bersagli evidenziati quindi rilascia per lanciare addestramento libero il tutorial del combattimento è finito se vuoi continuare ad addestrarti con base in me per interrompere addestramento sufficiente rifoderare la spada vediamo continuiamo con lui a furbe ragazzi rinfoderiamo la spada oh eh l'ho rinfoderata l'ho rinfodio si rilascia la scala comunque è Oh, che dimentico. As soon as she's back, we'll send her to polishing all the swords at Carabond. Find that helmet? Siri? Oh. Eh, I'll make sure to find every last blade for you. Ah. But then... Cosa? Che cavolo sta sotto il manichino? No, impossibile. Che cavolo? Che diavolo è successo? Ma che cazzo? Si è svegliato. Che cavolo? All right. Uh-huh. Not a nightmare. Come up? It'll take forever to explain. Dog, some way off. We've got time. Started in the guest room at Carol Warren. I was relaxing in a tub and next to me. Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seems so real in my dream, though. That'll insolvent you. Hmm. Mm-hmm. True to life indeed. We'll find her. In the dream, I went and found Ciri. And we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it, your dream? No. The wild hunt appeared. Attacked Ciri. I couldn't move. Stood there like a stump. It was just a dream. It's time to go. It's time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow our trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. How about that? It does smell of lilac and gooseberries. We're gonna bleed it, not sniff it. We must meet. Soon. Willoughby near Vizima. Hmm. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? That's private. Very private. Aha. I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but... Perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? Two or three days. The trail's fresh. And it looks like it leads towards the main wall. and the little. They'll be modeled there. Wait. Hear that? I can feel it. I smell it. Ghouls. Mostry. Attenzione! Attenzione! Oh. Latire! Non li riesco a Ma no, l'ho tagliato in due Eh, la testa, no, cos'è? Li ho ammassati due con un corpo Buono, buono Rallentamento Buono Colpisce gli avversari per ottenere il punto di adrenalina Alcune delle abilità che puoi acquisire ti consiglieranno di ferrare attacchi, vabbè Puoi originare la vitalità mangiando o bevendo oppure meditando per almeno un'ora Nota, mentre giochi a livello di difficoltà, lacrime, sangue e marcia La fune e meditazione non rigenerà più vitalità Ci beveanti si possono inserire negli sdrotti consumabili per essere usati più velocemente in combattimento Premi e per consumare e rigenerare la vitalità Ha equipaggiato nel cibo degli sdrotti consumabili superiore Premi e per mangiarlo Vediamo Mangia Il pane Avvicina la cavana premix per montare in sella Vabbè Mo saliamo Cavalli Avvicina la sua fortuna Enzo e Garrett può sempre contare sul suo cavallo Rutiglia Perché mai Rutiglia primi due volte le tre Fantastico Seguiamo Vasemir Questo si chiama un gioco Eh, devo stare attento alla tempra del cavallo Devi sapere qualcosa Questo si mantiene a continuare Come ora Più tardi Eh, mostro Un grifone Va ferito Ah, mo se ne va Ha preso la sua prida Ha preso la sua prida Se ne va Si, se ne è andato Si, se ne è andato Che capelli del cavolo God, that was close I was sure I'd end up like my man Provided you got lucky Your horse died quickly But Griffin's like to toy with their prey Eat it, alive, piece by piece Mmm, io voglio i soldi Could always use a few crowns Thing is I've a mega purse at the moment Nilfgaardians requisitioned my goods Now this Here Ah, buono Back to the trail Like I said Leads to the main road And ends there Muddle You seek someone Yes, a woman Medium height Long black hair Seen anyone like that No But There's an inn here In White Orchid Saw one around Gets its share of travelers Perhaps you learned something there Not a bad idea Especially since that wound Needs clean Ah, beast barely great But sure Use a good rye Nice and cool You know Straight from the cellar Let's go Ok Io adesso salvo E termino qua Aspettate un attimo Dice che non può salvare Adesso la partita Vediamo il bestiario Glossario Fa vedere Bestiario I grifoni Le voci bestiario offrono Vediamo Chiudiamo il bestiario Chiudiamo Ok Adesso Possiamo salvare Penso Si Salviamo Ok Allora Benissimo Riprendiamo Dal Punto Dove la va Voglio parlare Con il mercante Salve Greetings Sta riparando Il carretto Allora ragazzi Io ieri Non ho avuto Il tempo Di guardarmi bene Tutte le Come si vedono Le texture Devo dire che è veramente Una cosa fantastica Come si Si vede il gioco Immagino che allora Adesso dobbiamo Semplicemente Quando percorro Quando percorro una via Teni premuto X Senza cambiare la direzione Seguirai automaticamente La strana Bene Guardate Senza cambiare Non sto guidando Io sto facendo La sua Zona abitata Zona abitata Villagio città Spesso costruiscono Nelle vicinanze Delle baccheche Degli annunci Segnalate con l'icona Ah Del foglio Sulla mappa Esame per trovare Contrasti Offerte di lavoro Per witch E notizie Di eventi locali Devo smontare Da cavallo Ata Ata VR Ata prendere l'acqua prima di ciò che c'è il problema questo è i Dakota Roms, le Temerian lilies, loro hanno le right di prendere questo non è Temerian no più, ragazzi, è Nelphico è il mio cuore di questo sembra un arci tiene il cappello tipico degli arci no devo togliere la scuola no 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 Cosa ci sono? Ci sono passati qui. L'armi ha già passato. E ora una griffin sta percibendo. Ho già avuto il piacere. Un'impeuta. Un'impeuta? Un'impeuta per un hunter. Un'impeuta così male, un'impeuta in un'impeuta. Non è buono per farlo in questa fortuna. Come posso essere un servizio? Un'impeuta con me? E tu? Ci sono qualcosa per farlo. Dialoghi, fare acquisti. Le opzioni segnalate con... Fanno accedere alla schermata delle botteghe. Continua. Vediamo, mostrami cosa. Botteghe. Acquista e vende oggetti nella schermata delle botteghe. Premi X per fare un'acquista. Premi X per chiudere la schermata delle botteghe. Allora, equipaggiamento. Oggetti utili. Torcia. Oggetto comune. Altro. Questa... Non capisco qual è la roba mia e la roba sua. Gufo o vulvo. Accella la rigenerazione del vigore. Alchimia. Questa era la roba mia, penso. Statistiche del giocatore. Vabbè. Devo imparare. Devo imparare un po' di cose. Ecco. Che cos'è questo? Oggetto comune. Carte di Gwent. Fazione. Carta neutrale. Tipo di carta. Carta speciale. La verità speciale delle carte. Unità. Esca. Se tu dici quella carta con una carta c'è in gioco, riprendelo in mano. Ah, questo è il gioco delle carte. Perché sta pure un gioco di carte. C'è un punto dove si può giocare appunto a carte. Vabbè, vediamo. Cos'è questo? Spirito di Makava. Usa l'alchimia per creare miscele. Usa l'alchimia per creare miscele. Mela. Voglio una mela. No, 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 no. Quattordici. Allora, voglio comprare duemila. Duemila. Eccole qua. Poi cos'è questo? Latte di mucca. 30 secondi durata dall'effetto. 5 secondi durata effetto. Latte di mucca. Ne compro una. Uva. Allora, insomma, cose da mangiare. Liquora alla ciliegia. I soldi miei dove stanno scritti? Il mercante fa soldi e io no. No, no, apri di nuovo. Oggetti utili. Alchimia creazione oggetti. Vabbè, qua fa vedere gli oggetti nuovi a me. Vabbè. Allora. Allora. C'è un contratto per il griffone, vediamo. C'è un contratto per il griffone, vediamo. che non è un contratto per il griffone. Allora, gli ordoni non usano la privia senza chiedere la permissione di black one. E, come se avevano il griffone. Stiamo cercando una donna. Allora. 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 Parliamo giusto un altro po'. Allora. Allora. ! Sei morto, strano. Nessuno qui si può parlare con te. Se il compagno che hai chiesto, mettete il tuo mangi snouto in una truffe con i piggi. Show that shit-eater, Micah. Rai un po' di pazienza. Una volta che si è riuscita, la tua head si riuscita. Noi che si sono gesti. Noi chiedi per l'angrazione. Vi vedo una ragazza e ragazza qui, vestita in bianco e bianco. Alla fine non sapevano un cavolo di niente Se voglio andare a bere quindi si va qua Uh che stavo salendo sopra il tavolo Spegna la candela E vediamo un altro po' ancora questa locanda Perché poi finirò il video Dato che questo lo attaccherò al video Alla parte di video che ho fatto ieri Io vi volevo dire nel frattempo che Ah beh qua stanno altri paesani Comunque ah beh poi ci parlerò E volevo dire che siccome il gioco è molto grande Come avete potuto vedere Farò dei moment Cioè solo dei momenti farò dei video Perché non posso fare tutta la storia Sarebbe troppo impegnativo Guardate i capelli del Witcher come sono realistici Guardate che zombo nell'aria Guardate a destra e a sinistra Che come non si capisce Ok E va bene ragazzi E allora finisce qua il video